Anche gli avvocati marchigiani in piazza Roma davanti alla corte di Cassazione per partecipare lunedì 2 dicembre alla maratona oratoria per la verità sulla prescrizione organizzata ogni giorno dal 2 al 7 dicembre in concomitanza con l'assenzione dalle udienze. Il testo della legge che entrerà in vigore dal prossimo gennaio stabilisce che il corso della prescrizione si blocca nel momento in cui c'è la sentenza di primo grado, una riforma che non soddisfa però gli addetti ai lavori. I processi poi dopo la sentenza di primo grado potranno avere una durata indeterminata, non si sa quando potranno essere fissati e quindi la prima lesione del diritto fondamentale è quella della ragionevole durata dei processi che ovviamente così non viene garantita. Tra i problemi emersi è anche quello della carenza d'organico negli uffici della procura distrettuale della Repubblica di Ancona. Parliamo di una pianta organica di 52 persone che è ridotta del 36%, abbiamo tra vacanze strutturali che potremmo mai definire strutturali e assenze a vario titolo una diminuzione di personale che arriva a quasi 19 unità su 52. Questo quanto influisce poi sullo svolgimento dei processi? Il fatto che non ci sia il personale che è previsto in pianta organica, cioè il personale che si ritiene sia necessario e sufficiente per mandare avanti in ufficio, ha un'influenza immediata e diretta sull'attività dell'ufficio, che si riverbera sulla impossibilità di garantire la corretta azione dell'ufficio e quindi di garantire il regolare svolgimento dei processi. Grazie.